pure questa Fabrizio la poteva fare non so che c'entra due minuti anche perchè questo tappeto non sembra ma ti rallenta te l'hanno detto? te l'hanno detto? eh? a chi l'hanno detto? quello piccolino? quello alto assoluto scassa coglioni allora l'anno scorso sono arrivati con le armi in miniatura non ho detto niente quest'anno rifanno i cosi si sta appannando non ho il movimento di questo va bene